Swablu! Per qualche ragione gli piace appollaiarsi sulla testa delle persone e comportarsi come cappello. Oh no! Oh no! Ah ti stai comportando come un bel cappellino soffice! Temevo che sarebbe accaduto qualcosa di terribile! Ah! Bello! Louvdisc! Vive in acque calde! Si dice che la coppia che vede uno di questi Pokémon sarà benedetta con l'eterno amore! Oh guarda un Louvdisc! Ehi! Ma chi l'ha detto? Chiiming! Quando questo Pokémon viene abbracciato dolcemente, i fiori su tutto il suo corpo sbocciano in segno di gratitudine. Ho un regalo per te! Lo adoro! Anch'io ho un regalo per te, ma dovrai aspettare nove mesi per averlo! Amo te e tutti i bellissimi Pokémon che ci hanno messi insieme! Haunter! Si nutre dell'energia vitale della vittima leccandola, causandole un tremore che non si ferma finché questa non muore! Oddio! Oddio no! Uffa! Mi ha rovinato il gelato! Oh beh! Perlomeno è ancora tutto bellissimo e perfetto! Ehi guarda un bambino leggero mio! E che cazzo! Ciao ragazzi! Grazie per aver visto questo video! Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutti i video che farò uscire. Ancor più importante, seguitemi sui social come per esempio Instagram e Telegram. L'ho messo qua? Sì, spero di sì, che si centrino bene, chi lo sa! Mi raccomando, vi aspetto ad un prossimo video! Ciao!